Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi vi farò vedere una casa dove si potrebbe nascondere un capo di stato o qualcun altro perché terroristi o qualcun altro che lo voglia uccidere si può nascondere in queste case blindate con una scorta iniziamo dal fuori innanzitutto notiamo una moto con una grande antenna che sorveglia la zona andiamo vicino e vediamo una guardia di fuori un cecchino di quelli là creati in settimana è piaciuto moltissimo il video grazie a tutti e qui un altro soldato il capo di stato un altro cecchino è un uomo che guarda se ci stanno i nemici poi passiamo alle moto qui due moto per scappare la moto quella della polizia e un elicottero per scappare se sono con la macchina grazie a tutti ragazzi e al prossimo video